Ciao a tutti, oggi vi propongo una French musicale, infatti per farla mi sono ispirata alla musica, al pianoforte e alle note musicali. Come potete vedere si tratta di una semplice French bianca, realizzata questa volta però piuttosto dritta, sulla quale ho impresso i tastini tipici del pianoforte, sia quelli bianchi che quelli neri, mentre invece solamente sull'anulare, quindi non anche sul pollice, ho creato una base bianca con sopra delle note musicali e dei puntini a decorazione. Di per sé la nail art è molto semplice, ma la particolarità è che questa volta, per la prima volta, ho deciso di utilizzare la pittura acrilica anziché gli smalti per fare la decorazione. Infatti per realizzare la nail art è utilizzabile anche della semplice pittura acrilica, io infatti ho utilizzato questa qui, che è proprio quella da pittura. In commercio esistono anche i colori acrilici proprio specifici per la nail art, ma anche questi da pittura vanno assolutamente bene e soprattutto siccome io sono all'inizio ho deciso di sperimentare con questi, poi magari più avanti proverò anche quelli da nail art, non lo so, vediamo. Comunque, ripeto, anche questi qui da pittura, quelli che si trovano nei colorifici, vanno assolutamente bene. Per quanto riguarda la differenza tra acrilico e smalto, diciamo che la pittura acrilica è meglio perché vi permette di essere più precisi e asciuga più rapidamente, quindi vi permette di fare un passaggio dopo l'altro più rapidamente. e si può correggere passando sopra con l'acqua, quindi se magari voi avete steso come ad esempio qua lo smalto bianco, andate a creare la decorazione con il colore acrilico ma ad un certo punto sbavate o sbagliate, non dovete andare magari con l'acetone, insomma con il solvente a rimuovere tutto e ricominciare da capo, vi basterà prendere magari un coton fioc in tinto in un po' d'acqua e passate nel punto in cui avete sbagliato e andrete a togliere solamente la parte di pittura acrilica senza andare a rimuovere la base e un'altra cosa a favore della pittura acrilica è che è più modulabile, infatti in base a quanto la diluite potrete fare righe più precise, più sottili o meno e infatti come vedrete dal video io in questo caso l'ho diluita un pochino con dell'acqua perché dovevo andare a creare delle linee piuttosto sottili. Quindi appunto questa volta ho deciso di sperimentare questa nuova tecnica e devo dire che mi sono trovata piuttosto bene perché effettivamente è più semplice proprio anche come stesura e permette di essere più precisi. Ovviamente bisogna prenderci un po' la mano ma insomma come tutte le cose poi si imparerà. L'unica cosa è che ovviamente la pittura una volta asciugata rimarrà più opaca rispetto ad uno smalto quindi se volete che diventi lucida e brillante come al solito dovrete assolutamente passarci sopra un top coat a maggior ragione rispetto al solito. Quindi credo di avervi detto tutto e allora vi lascio al video e vediamo come l'ho realizzata. Per prima cosa come sempre sono andata ad applicare una base su tutte le unghie e dovendo andare a realizzare una french ho utilizzato quella sbiancante anti giallo di pupa. A questo punto con un semplice smalto bianco vado a realizzare la mia french su tutte le unghie meno che sull'anulare sul quale stenderò uniformemente il colore e invece per quanto riguarda la french questa la andrò a creare abbastanza dritta quindi non particolarmente sorridente. Per accelerare un po' il processo di asciugatura ho applicato su tutte le unghie una passata del top coat di essence che è ad asciugatura rapida e così i tempi si sono un po' abbreviati. A questo punto passiamo alla decorazione. Per farla ho deciso di utilizzare la pittura acrilica nera e adesso vediamo come l'ho utilizzata. Per prima cosa una raccomandazione diciamo quando utilizzate la pittura acrilica per decorare tenetevi sempre vicino un bicchierino di questo genere di quelli di plastica rigati di fianco pieno d'acqua perché questa vi servirà per andare a diluire intanto il colore nel caso vi servisse e soprattutto vi sarà utile per pulire il pennello tra un passaggio e l'altro soprattutto se dovete cambiare colore e anche per andare a cancellare eventuali errori che avete fatto sull'unghia perché infatti la pittura acrilica finché è bagnata è possibile andare a rimuoverla con della semplice acqua quindi al contrario dello smalto non dovrete andare a cancellare tutto e rifare dall'inizio. Quindi preparate la vostra acqua, prendete un piano di appoggio, io utilizzo questa tavolozzina di plastica, prendete un po' di colore e lo mettete sulla tavolozza e poi in questo caso siccome dovrò andare a realizzare delle linee molto precise e sottili vado a diluire un po' la pittura perché più viene diluita più riuscirete a creare delle linee e dei particolari sottili. Quindi con questo attrezzino, però insomma potete usare quello che volete, vado a prendere un po' d'acqua e la metto proprio dentro al colore e vado a mescolare. Una cosa diciamo importante è non utilizzate i pennelli direttamente per mescolare il colore perché rischiate che nel mescolare la pittura vi vada a finire all'interno delle setole per intenderci che vi vada a finire proprio qua dentro e quindi poi il pennello si rovinerà e poi sarà inutilizzabile a furia di andare avanti. Quindi utilizzate magari un attrezzo del genere oppure anche un dottero, va benissimo, insomma qualcosa che anche se viene intinto nella pittura non crei problemi. E ne aggiungete finché ritenete che sia diluito abbastanza. Ecco fatto! A questo punto la pittura è pronta e utilizzando un pennellino dalla punta lunga e sottile vado a creare la prima parte della decorazione, ovvero le righe che andranno a comporre la tastiera sulla French. Poi con lo stesso colore utilizzato fino adesso e utilizzando un pennellino dalla punta piccola e sottile da precisione, vado a creare i tastini neri tipici del pianoforte e le note e le decorazioni sull'anulare. Infine, come sempre, applicate su tutto il pianoforte il pianoforte e il pianoforte il pianoforte. Io spero che questa nell'arte vi sia piaciuta e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Grazie! Grazie! Grazie!